Ritorno dalle vacanze pasquali di fuoco per Lodigiani e Procalcio Torzapienza che si sfidano alla Borghesiana per la quart'ultima giornata dell'equilibratissimo Girone B. In campo Peri, Biancorossi, Quartin classifica con 38 punti insieme al Tordiquinto. Granata, Mazza, Leacche, Di Gregorio, Pavone, Di Cataldo, Cusimano, Samb, Antonacci, Capocannoniere Rodi e Maratea. Risponde la squadra di Stefano Volpe, due lunghezze più avanti in classifica, quota 40, con Lombardi in porta, in difesa Mascioli, Elia, Roselli e Palone. A centrocampo Badagliacca, Di Marco e Torsellini. Davanti il trio Pungitore, Antonelli e Luca Lanzone. La partenza migliore la compiono i ragazzi di casa. Quando su un'uscita sbagliata di Lombardi, Rodi approfitta della situazione e serve al centro Matteo Antonacci che però di destro manda incredibilmente fuori da ottima posizione. La reazione del Procalcio Torzapienza non si fa tendere. Cross dalla fascia di Pungitore e colpo di testa di Lanzone. Nessun problema per Simone Granata che sbaglia invece il rinvio a qualche minuto più tardi e deve ringraziare Gianluca Di Cataldo che va a salvare sulla botta sicura di Antonelli. Ancora poi pericolosi i padroni di casa con Maratea. Quando trova l'attenta opposizione di Lombardi al ventiduesimo. E poi sul finire del primo tempo diagonale velenoso di Lanzone che però non centra allo specchio di porta. Nella ripresa il Procalcio Torzapienza prova a dare continuità alla propria azione offensiva. Qui colpo di testa di Palone che termina alto. Ma è la Lodigiani a premere maggiormente. Prima Rodi col destro strozzato. E poi qualche minuto più tardi Sansotta, sinistro centrale, provano a scuotere il match che però rimane bloccato fin quando negli ultimi dieci minuti la squadra di casa pressa tutto campo per ottenere un vantaggio che sarebbe importantissimo. E soprattutto si affida a Joshua che prima manda fuori col destro. E poi si inventa un'azione solitaria conclusa dalla parte alta della traversa soltanto scheggiata dal numero 18. Quando la Lodigiani sembra poter trovare da un momento all'altro il gol del vantaggio. E invece il Torzapienza rendersi pericolosissima con Di Marco, sinistro alto. Ed è proprio lo stesso Di Marco a salvare di testa in tuffo, clamorosamente sulla linea. Sul tiro a botta sicura di Rodi. Un vero e proprio miracolo quello del numero 8. Sul corner successivo poi ci prova Diratti, palla a lato di un soffio. Un intervento, dicevamo, quello del centrocampista che rischia di essere decisivo per la lotta alle finali. L'ultima chance arriva al 42esimo con il sinistro di Parisi che termina a lato. Non c'è più tempo per proseguire e sbloccare il punteggio. Alla borghesiana finisce 0-0. È un punto che sicuramente va bene al pro calcio Torzapienza che si mantiene al terzo posto, molto meno ai ragazzi di Scaringella.